Io sono particolarmente emozionato questa sera per due motivi. Uno è sicuramente perché credo che sia importante festeggiare ma anche celebrare un'azienda che compie 100 anni. Perché io credo che a 100 anni ci si arrivi solo se si mette il proprio territorio, le persone che lavorano, quello che vive un territorio come soggetto principale. Cioè se un'azienda non fa della ricchezza un qualcosa di proprio come purtroppo molto capitalismo fa, che nasconde, depreda, porta via, non reinveste, ma già a partire dalle persone che lavorano insieme a proprio tutto il territorio ha una visione diversa, una visione globale. E allora credo che questa sia la grande caratteristica che mantiene Focchi, l'azienda Focchi in questo momento, leader a livello europeo e la mantiene ancora leader sicuramente a livello del nostro territorio. E anche una caratteristica che permette a un'azienda come questa anche di vincere le lungaggini burocratiche che purtroppo le pubbliche amministrazioni hanno, la concorrenza spietata che c'è. Perché comunque chi ha un faro davanti che va oltre il guadagno, credo che poi alla fine trovi anche tutte le soluzioni che servono anche per passare i momenti difficili. E quindi davvero è importante per noi in questo momento fermarci un attimo a riflettere su cosa significa davvero la parola etica in economia. È una parola che purtroppo in economia funziona poco, ma quando funziona riesce a fare davvero dei grandi miracoli. E l'altro è un ringraziamento che mi sento di fare a Maurizio in particolare, a fine del mio mandato, anche per il ruolo che ha svolto fino a poco tempo fa. Perché anche questo è stato importante. Perché chi ha un ruolo comunque all'interno della società e lo svolge per il bene del proprio territorio, e non lo svolge solamente per puntare il dito sulle cose che non vanno, credo che abbia avuto il merito di aiutarci, di aiutare anche gli amministratori, anche a fare le scelte che erano giuste nei momenti in cui ci siamo incontrati, per poter comunque andare avanti e per poter mettere in campo tutta la progettualità che è servita per riuscire anche a passare i momenti di crisi. E anche questo non è un fatto scontato, perché molto spesso chi ha un ruolo lo esercita puntando il dito contro qualcun altro, dicendo che la colpa non è la sua, ma la responsabilità è di qualcun altro. Quando invece c'è qualcuno che si assume la responsabilità, ti prende sotto braccio e fa un pezzo di strada insieme a te, ecco questo, costruisce la città, costruisce il territorio e costruisce la provincia. Quindi grazie di cuore, auguri e i nostri pronipoti sicuramente festeggeranno i 200 anni dell'azienda. Grazie.